Se me lo chiedete per favore, il segreto lo vi svenerò. Ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi! Sono le tagliatelle di una mattina, un pieno di energia e sacco di vitamina. Mangiate palle con ragù, con ragù! Ti fanno il piano per sei giorni e tanti più. Sono le tagliatelle di una mattina,